La telepatia è un meccanismo inerente a tutti gli esseri viventi. Tutti siamo capaci di utilizzare i nostri pensieri per stabilire una connessione, perché tutto è fatto di energia. Tu sei energia, le persone che ami sono energia, i pensieri sono energia ed è attraverso questi che tu determini il tipo di energia che attiri, che sia positiva o negativa. Tu puoi inviare flussi di energia verso una persona e far sì che questa ti pensi o inizi a sentire una connessione più profonda con te e molto altro. Per far sì che il messaggio arrivi libero dai rumori interiori e ottenere il massimo dei risultati, devi seguire le seguenti istruzioni. 1. Conosci e ama te stesso te stessa Una volta che ti accetti e inizi ad amarti, la tua energia cambia ed inizia a sentire e ad emanare felicità. Se il messaggio che invii è positivo, la persona che contatti lo accetterà decisamente meglio. 2. Non sentire necessità o dipendenza Se il messaggio che invii è di disperazione, sofferenza, che non puoi vivere senza quella persona o altre emozioni eccessivamente negative, in questo caso la vibrazione che questa persona riceverà sarà pesante e di carenza. Pertanto quando invii un messaggio telepatico, invia sentimenti di amore e libertà. Visualizza quella persona che ti ama, che ti desidera e non il contrario. 3. Sii chiaro e preciso con ciò che vuoi ottenere Il tuo messaggio deve essere pulito e tutto quello che desideri deve essere perfettamente compreso prima di tutto da te, pertanto si specifico e diretto con le tue intenzioni. Per questo punto, se hai un po' di confusione e magari sei alle prime armi, ti rimando al mio libro avanzato di telepatia e diversi audio di approfondimento nel link qui sotto dove scoprirai anche come utilizzarle con persone che non conosci o magari appena conosciute. 4. Assicurati che le tue intenzioni inizino dal desiderio di fare del bene e vivere bene. Quando il tuo desiderio di comunicare con quella persona nasce dal tuo cuore e non dal tuo egocentrismo, potresti potenziare i risultati. Ascolta questo audio anche due volte al giorno, almeno per 40 giorni. L'orario migliore per questo esercizio è la sera, dopo le 19, ma comunque puoi farlo in qualunque altro momento della giornata. Prima di iniziare ti chiedo di guardare per due minuti l'immagine che ti appare ed essendo una risorsa adatta a tutti, non puoi vedere al centro del video l'immagine e il nome della tua persona amata. Per questo ti invito alle richieste personalizzate dove con totale riservatezza e privacy ti mando una risorsa esclusivamente adatta alla tua situazione specifica. In questo caso invece visualizza mentalmente dentro la spirale che vedrai a breve l'immagine della persona alla quale vuoi inviare questo messaggio telepatico. L'immagine della persona alla quale vuoi inviare questo messaggio telepatico. L'immagine della persona alla quale vuoi inviare questo messaggio telepatico. L'immagine della persona alla quale vuoi inviare questo messaggio telepatico. L'immagine della persona alla quale vuoi inviare questo messaggio telepatico. Con la persona all'immagine della persona alla vacunazione dei risposte. La mia vita è la mia vita. Dove sai che non verrà interrotto per i prossimi minuti. Mettiti in una posizione a te comoda e chiudi gli occhi lentamente. Respira lentamente e profondamente. Libera le tensioni del tuo corpo ad ogni respiro che fai. Inspira profondamente. Espira lentamente. Libera le tensioni del tuo corpo. Respira profondamente. E libera le tensioni della tua mente. Inspira profondamente. Espira lentamente. Libera le tensioni della tua mente. Libera le tensioni della tua mente. Libera le tensioni della tua mente. Uno. Posiziona Entrambe le tue mani con i palmi rivolti verso il tuo cuore, una sopra l'altra. E con gli occhi chiusi, con il tuo corpo e la tua mente completamente rilassati. Immagina Di trovarti in un luogo meraviglioso, pieno di pace, armonia, pieno di amore, di purezza e gioia. Un luogo a tua scelta può essere un luogo dove sei stato meravigliosamente bene. Oppure un luogo di pura fantasia. Un luogo che ti crea pace e serenità. Guarda Visualizza Crea E osserva E osserva Respira Profondamente E lentamente In quel luogo, insieme a te, si trova il tuo o la tua essere amata. Può essere una persona con la quale non stai più insieme. O una persona che vuoi conquistare. Questa persona ti guarda negli occhi e ti sorride. Osserva Il suo sorriso e il suo sguardo nei minimi dettagli. E mentre lo fai, senti un leggero calore che aumenta nella parte del tuo terzo occhio e del tuo cuore. Senti questo leggero calore che aumenta, aumenta, cresce, sentilo. Ora, qui, nel momento presente, muovi le tue labbra. E osserva E osserva come questa persona vuole dirti qualcosa. E mentre osservi, inizi a sentire la sua voce, che dice esattamente ciò che vuoi che dica. E mentre lo fai, ripeti esattamente queste parole, sussurrando a voce bassa. Ripeti le sue parole. visualizza visualizza senti senti le sue parole che si esprimono con la tua voce sottile che emana queste vibrazioni all'universo. senti e ripeti e ripeti sussurrando nel qui e ora cosa dice cosa vuoi che dica cosa senti con la tua voce sottile e ripeti o osserva come il tuo o la tua essere amata sorride pieno di felicità e gioia per averti lì accanto entrambi sorridete mentre la connessione diventa sempre più intensa e profonda goditi queste sensazioni per alcuni istanti respira lentamente e profondamente respira lentamente e profondamente e ripeti il nome di questa persona mentre continuo a guardarla negli occhi ripeti io suo nome ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro sincero e reale ti voglio bene io ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro sincero e reale ti voglio bene io ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro sincero e reale ti voglio bene io ti ho invitato ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro sincero e reale ti voglio bene ora abbracciatevi compassione ardore amore senti il suo odore senti il suo corpo vicino al tuo senti le sue labbra il suo calore nelle tue mani e respira profondamente la sua essenza chissà il tuo battito cardiaco in questo momento è un po' accelerato renditi conto come anche il battito cardiaco di questa persona va in piena sintonia con il tuo renditi conto come il suo respiro è perfettamente sincronizzato con il tuo e ora mentre sei in questo luogo con questa persona voglio che ripeti mentalmente le seguenti parole come pura emozione come se fosse il tuo cuore a ripeterle poiché l'universo ascolta le emozioni non tanto le parole universo ti chiedo di manifestare il mio desiderio adesso tu sei più forte di ogni cosa e ascolti le mie vibrazioni con amore perché sai che ciò che ho trasmesso sai che ciò che trasmetto è creato dallo stesso amore di cui tu sei fatto grazie universo perché ascolti e accogli questo mio desiderio e perché ripeti il nome della persona è qui con me ora grazie universo perché si manifestano situazioni ed eventi per vivere la persona anche nella mia realtà fisica accolgo le situazioni segnali ed eventi che mi avvicinano a te ripeti il suo nome ora sì o sì grazie mi permetto di ascoltare questo audio quante più volte possibili con costanza e determinazione per manifestare ciò che desidero grazie e lentamente prendi coscienza del tuo corpo e quando sentirai il numero 3 aprirai gli occhi 1 muovi lentamente le mani le braccia 2 muovi lentamente le gambe i piedi 3 apri gli occhi commenta qui sotto la tua esperienza e decreta l'universo le parole sentite dall'altra persona in questa visualizzazione qui sotto nei commenti per aumentare le vibrazioni del tuo messaggio grazie al potere risaputo della scrittura un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.